Eeeh, bella a tutti ragazzi, io sono Minamatte e bentornati in questo nuovo video. Oggi, ehm, siamo... Ciao! Oggi siamo ciao! Eeeh, oggi siamo in un video dove quello zombie lì in fondo, spero si sia visto, muore. E siamo in un video di una grande serie, che si chiamerà, ehm, con un nome, Verastace. Cioè, aspetta, adesso metto... No, che cazzo ho fatto? Allora, vado su Impostazioni. Il nome del mondo lo nomirò... Nome. Tu sei Gesù! No, non si dice. E niente ragazzi, in questo video creeremo, quindi, se non si era capito, un Luna Park. Ok, bravo, basta. Creeremo un Luna Park. Ovviamente, non così con quello che abbiamo spianato, perché sarebbe troppo piccolo. Però abbiamo già spianato una mini parte, diciamo, mini... È un po' una battuta, perché abbiamo spianato da qua, così... Cioè, ci abbiamo messo un po' e era alto, fino a quest'altezza, più o meno. Dove sono io ora. Che cazzo fai? Basta fare vero, se siamo in un video... E niente. Dai, dai, fai il serio, come sei di solito. Perché... Perché sennò fai una figuraccia, magari, delle tue amiche guardano sto video. Capito? Aspetta, eh. Siamo da coglioni, aspetta. Sì. Queste cose qua... Guardami. L'abbiamo fatte insieme. Aspetta. Io mi dissocio. Ok, ragazzi. Oggi... Oggi, a parte il mio dissociamento, creeremo un nulla park. E non abbiamo una minima idea di che cosa fare. Dai, stai ora, fai il serio. So che sei in un video, però... Facciamo come facciamo di solito. Allora... Io direi che per l'entrata facciamo che... Il punto di generazione è questo. Allora, metto. Vai. Questo è il... Il punto di generazione. Quindi... Prendiamo un po' di calcio e sturzo bianca. Ok? Aspetta. Se è questo il punto... Poi facciamo... Sto facendo un'idea mia. E così. Molto, molto, molto semplice. Una schiacchiera molto varia. Basta. Sarebbe figo fare delle colonne. Aspetta, aspetta. Ho un'idea. Allora, questo è il punto di spawn. Qua noi mettiamo... Allora, che tu spawni così. Guardi qua. E... Quindi facciamo questa cosa qua. Non mettiamo precisamente una porta. Perché sarebbe troppo, diciamo, disordinato. Segui quello che faccio. Perché c'ho un'idea. Bravo. E così. Che è un'entrata molto principesca. Hai fatto stacco in ridere il tuo... E basta. Abbiamo finito. Fermo, fermo, fermo. Perché dobbiamo ancora vedere come fare il continuo. E poi, vabbè, ovviamente. Così. Se sarebbe un pochino più bella, più alta. Così, guarda. Hai ragione, è un po' più... È vero, è vero, è vero. Basta che... Meglio, meglio, meglio. Meglio, vero? Però qua metti c'è un blocco... Ok, perfetto. Allora, così mi piace onestamente. Tu entri. E qua c'è scritto. Facciamo... Facciamo un cartello, ok? Sì. Scrivi... Allora, scrivi nel cartello... Che... Mi si sono buggata la via. Ok. Scrivi di qua, benvenuto. Qua... Allora, di qua. Su questo blocco qua. Scrivi... Benvenuto. E di qua... Scrivi... Parco... Parco divertimenti... A capo... Nessuno. Ti piace come idea? Sì. Vai. Io intanto faccio tipo il muro. Ma lo faccio tutto in maiuscolo? Sì, dai. Così, perché magari c'è gente che non... Ha problemi di lettura. No. Cos'è che scrivo? Parco? Allora... Parco divertimenti... E poi a capo... A capo scrivi... Nessuno. Ah, ok. No, vabbè... Ora sono un genio. Perché questo non è venuto maiuscolo. Adesso facciamo così. 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 Vabbè... Fra da fuori impazzirai. È fighissima l'entrata. È un po' claustrofobica. Fra! Fra, vieni dove sono io. Questo ti sembra un blocco... Però fatto a rilievo, capito? Sembra un blocco che tu puoi scavare. Però se scavi lì c'è un buco. Wow, che bello. L'illusione ottica. Mi piace, mi piace. Però, tipo qua... Vedi? A me sembra che qua ci sia un blocco, ma in verità non c'è niente. Qua, tipo, metterei una bella finestrina. Dove che sono le finestre già qua? Non, anzi, facciamo così. No. Non mi piace. Non che a me. Così ti arriva un po' di luce. Tantico, dai. È carino. Diciamo che da fuori, non troppo, ma da dentro. È claustrofobico al punto giusto. E anche... Cioè, tipo, a te sembra che... Questo è tipo un vetro nero. Raga, mi piace un sacco perché è un'illusione ottica e non me l'aspettavo. Allora, questa è l'entrata. Poi ci dovrebbe essere qua un passaggio. Io mi muterei dalla chiamata e direi a qualcuno di far casino, se vuoi. Ti puoi spostare un secondo. Allora. Prendi dell'acqua. Prendi un po' d'acqua, tipo un secchio d'acqua. Hai capito cosa voglio fare? Allora, te ne do uno. Te lo lascio lì. E poi un secchio normale. Che cavolo fai? Ok. No, perché... Aspetta, mi è venuta un'idea. Ma tu vuoi farlo verso l'alto? Allora, aspetta. Come cacchio facciamo? No, stai non si... Dammo, dammo, dammo. Dammo, dammo. Non si può. No, non si può. Non si può. No, forse so come si fa. Non si può, stai. Non è che si fa o no. Non si può. Dammi retta. E' uguale... E' uguale a prima. Vedi, non puoi uscire. Si bagga. Guarda. Vedi? Non va bene. Teniamolo come ho fatto io, tranquillo. E facciamo così. Guarda. Hai capito? Perché devi mettere lì sopra l'acqua? Basta che la metti sopra uno. Fra, tranquilla. Allora. Fammi tipo fare sta parte a me e tu inizia a fare una casetta in legno qua. Qua. Una casettina di legno? Una casettina... Fai 5x5. Ah, tipo... Con le finestre? No. E tutto? Una casettina 5x5 tattica. Trista? Ok. Sì, proprio. E... Con... Con... Però ha un accesso... Con un accesso... Cioè... Ha un accesso qua. Vabbè, dopo ti spiego. Tu fai le basi. Perché è la casa di quello che ti vende il biglietto. Cioè, non te lo vende in verità, perché non so mettere questi comandi. E non è neanche intenzione. Ok, ho capito. Cioè, comunque sta venendo molto carino. No. No. Ah, no. Potrebbe esserci come idea? Ma... Sì? Ti dirò. Mi piace. Non è trash? Ok, so come far. Ma che rumore c'è, scusami? Ehm... Aspetta un attimo, vado a vedere. Bra... Oh, finalmente ha capito il mio amico. Oh, no. Aspettate, raga, perché riesco di far bruciare tutte cose, eh? Eh, no. Non trocco niente, solo che devo fare una cosa. Ok. Hai capito? Hai capito? Fra! Ok. Perché hanno ripreso fuoco da nulla? Ah, che bug. Quando ne metto uno riprendo fuoco tutti, vabbè. Mettiamo così. Aspetta. Ah, non succede più. Vabbè. Chissà quanto sarà noioso sto video, questa parte qua. Però, cioè, un giorno sarà un parco divertimento fighissimo, però ora, cioè, per ora vi dovete accontentare così, cari amici spettatori da casa. Ok, mi piace. Vuoto. Ah, no, 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 dove sta? Pfff, pfff. Puff. Pfff. Vai, mi piace, mi piace, mi piace, dai. Arco schifo! No. Ci può... Puoi prendere i comandi? Non puoi mettere i comandi, dai? Puoi aggiungere le barriere? Eh, sì, ci sono i comandi. Eh, mezzo. Ok. Mi prendi le barriere, per favore. Tieni, tene da una. Aspetta. Grazie. Sgancia. Grazie. Ok. Allora, poi così, così, così. Ok. Così, così. Facciamo direttamente così, dai. Ah, ma bastava far così, ma sono un grande coglione. Allora, guarda. Sì. Allora, guarda l'acqua. Ok. Se vedi un casino di acqua, tranquillo, risolvo tutto subito. Non c'è più. No, c'è ancora. Perché c'è ancora? Ok. Ti piace la mia idea? Quale? Eh, no, no. Aspetta un secondo che sto finendo sta parte qua, che è... Noi, noiosissima. Raga, voglio fare una cosa più carina. Dai, ci sa. Ok. Sì, sì, mi piace, mi piace, mi piace. A me, personalmente, piace. Vai, dai, è venuto carino. Aspetta, voglio fare una cosa. Facciamo così. Che è... Ok, lol. Bravo, hai fatto quello che volevo. No, non mettere dietro nessuna porta, niente, ste cose, eh. No, eh, io volevo, tipo, mettere una cassa. No, no, non una cassa-cassa. Ah, una cassa-cassosa? Esatto. Ah, grande, ma tu sei un genio. No, aspetta, aspetta, eh. Guarda, facciamo una roba. Perché si deve muovere di un blocco. Fai così, guarda, eh. Io immagino questo, che cazzo, mi stanno a fare questi. Vai, così, così, vedi. Ok. Visto? Poi prendiamo? Così si può muovere di un blocco. In più di quello di prima. Dai, ci sa, aspetta che voglio fare una cosa perché così onestamente non mi piace. Devi fare il design. Sì, così è bello, così è bello. Se ci facessimo un acquario dentro il tarco? Eh, dopo, prima dobbiamo pensare alle montagne russe, che sono la prima cosa che dobbiamo fare, perché è la mia attenzione preferita. Magari l'estetica ai negozi, facciamoli un po' dopo. Sai quanto dovremmo scavare? Cioè, dovremmo scavare praticamente tutta sta montagna, dopo. Dai, stiamo partendo bene, secondo me. La rec sarà di anche un'ora. Però va bene. Ah, prima dobbiamo fare le montagne russe, poi finiamo sta rec. Ah, dai, partiamo bene. Direi che si può fare. Che questo è il ticket di quando entri. Raga, non funziona, è finto, ok? Cioè, facciamo finta che questo sia un ticket. Poi, poi tu sali. Però sono scomodi questi qua, qua. Cosa? Questi qua. Eh, lo so, sono storti. Sì, dai, rifacciamoli, rifacciamoli. No, ma anche, tipo, sarebbe... Perché poi se tu sali qua, vai qua. Invece sarebbe carino, tipo così. Che qua c'è una rampa, sali così direttamente e fai così. Aspetta un secondo che voglio fare una cosa. Mi stai buttando, vero? Sì, sì, sì. Ok. Stai a posto. Che roba ti ascolta, sembra. Aspetta che cerco un attimo una cosa. Allora. No, tu che sei storto non mi va bene. Vai. Questa è tutta dritta. Poi qua sotto è più bello che sono storte, onestamente. Cioè, non è che non le voglio rifare, però qua sotto mi piace più un po' di vero. Cosa? Sei un fottuto, genio. Potremmo sfruttare niente in queste palle. Ok. Vai, guarda. Loll, è venuto bene, dai. Eh, appunto. Scusami. Scusami, raga. No, basta che ogni volta faccio così, se non cogliamo. No, no, no. Piuttosto metti direttamente il blocco, guarda. Così. Sì, 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 sì. Perché se no da qua, guarda, se no tu lo vedi già da qua. Non devi capire da qua. Entra, vedi qualcosa. Pum! Non mi piace di più. È più felice. È una storia felice. Allora, vai. Ora pensiamo. Allora, intanto voglio fare questa cosa, perché mi irrita alquanto. Allora, per favore, fai tu il passaggio, ti scongiuro. Usa la tattica che ho usato io. Fai tu il passaggio. Che porta qua. Questo punto qua. Ok? Ma questo qua, tipo, uguale a questo. Sì, prendendo questo qua. Poi quando arrivi qua, fai tipo una sterzata così e arrivi qua. Io volevo farti una domanda. Iai. Se tipo questi, li togliessi o questi qua. Va bene? Ops. Così è più comodo. Eh, ma io... Cioè, sono d'accordo. Per un... Boh, non... Ma di qua non possiamo anche lasciarli qua. Eh, no, lo so, però avevo missato, avevo missato. Papi, non venire, che sto facendo un video. Perché io avviso mio papà prima che entri e rovina tutto il video. Perché non voglio buttarli a sto video, assolutamente. Cioè, io ho urlato ai miei genitori prima di fare sto video. Mamma, papà, faccio video. No, ma che cosa è successo al villager, scusa? Che cazzo è successo? Eh, vabbè, è ovvio ste, però, sono dei pirlis. Adio, dolce villager. No, l'ho fatto... L'ho ucciso killandolo da danno da caduta, ma no. Aspetta, eh. Hai ragione, che palle però, era bello, Comedia. Va bene, dai. Aspetta, se no possiamo usare un po'. Allora... Io intanto... Vai, così, vai. Io inizio a fare l'entrata. Buono, non so perché, ma mi piace. Vai, tu arrivi qua. E, boh, tipo, che cosa facciamo qua? Allora, tipo, qua parte, direi. Sì, sì, mi piace, mi piace. Allora, prima devo fare... Prima devo fare tutta la struttura. Aiuto, che casino. Allora, la faccio in terracotta, la struttura. Terracotta, ciano, perché mi piace questo colore. È molto, diciamo, fra l'allegro e il triste. È molto ciano. Che battuta è? Cioè, inconcepibile. No, ma... Sì, proprio da eliminare dal mondo. Uno, due. Giù, giù. Giù, giù, giù. Giù, giù, giù. Giù, giù. Poi, fai così. Mi devo mettere la cadrezzata di tutti? Sì, fare come ho fatto io. Eh, lo so. Ma questa è un'agonia. Eh, lo so anch'io. Aspetta, la struttura la vorrà fare dopo, però. Prima iniziamo con i miei cari minecarts. Allora, vediamo qua. Allora, innanzitutto dovremmo armarci di torce. Prendiamo il spalo. Prendiamo i secchi. Io farei una cosa, questo. Questo e questo, perché sono quei principali. Se noi lo mettiamo... E facciamo che tipo metto tot cart qua dentro. Perché ammettiamo che nessuno ci ha voglia ogni volta di... Quattro carte. Beh, mi piace. Allora, tutto inizia da qua. Che c'è un blocco di legna. Con un bellissimo pulsantino. Sempre legno. Bellissimo. Intanto dovrò portarmi dietro un minecart con me. Intanto funziona, funziona. Vedete, raga. Ora non funziona niente perché, vedete, devo fare così. Ok. Ma? Fra aiuto, si bugga? Sono un coglione... In teoria ora dovrebbe funzionare, vero? Sì. Non sto capendo perché non funziona, raga. Cioè, perché? Ma raga, per quale motivo non funziona? Devo capire il motivo. Stai... Nido? No! Perché tutti mi... Qual mondo? Ti giuro... Ah, io qua l'ho raddrizzato. Fra non va, non capisco, cioè, sono scemo. Ti piace? Guarda, aspetta, prova a salire te. Ma cos'è che vuoi fare? Prima importante? Perchè succede sta roba? Aspetta. Ah, aspetta. Per questo? Oh. Allora, Redstone si attiva. Cioè, i binari si attiva, non so perché, comunque. Vediamo così un attimo. Aspetta. Si avvia in ritardo, però. Guarda. Scusa. Prova a fare così. Grazie. Fra mi è andato avanti a casa. Ok. Io mi sto dicendo a vederti andare avanti. Mi piace comunque. Questa cosa che ho detto può essere brutta a niente e fa i miei libri. Forse ho capito tutte cose. Perchè io salgo sopra un minecart e vado avanti senza far niente? Aspetta. Posso sapere il motivo al mondo perché ora va e prima no? Per ora ha deciso che non va più. Facciamo che va bene così. Ok. La viglietta è diventata tipo bella. Ok. Sto cercando di fare qualcosa di carico. No. 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 Ma Fra vieni a vedere che bello. Cioè è stupendo. Discuss. Disconjuros. Non possiamo locargli così tanto all'inizio. Perché no? Guarda. Che cazzo è successo? Ma cos'è successo? Minecraft. Allora. Cinque secondi qua funzionava su altri mondi. No Fra non funziona. Guarda. Aspetta. Usa questa. Cioè no. Sono andato avanti io per sbaglio. Aspetta. 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 Scendi. Dici? Vai. Anche te. Ssh. Oh. Funziona. Aspetta. 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 Fammi. Fammi fare. No non mi devi spingere te perché mi hai spinto te. Devi metterti via. Vai via. Non funziona ma è semplicemente tu che ti sei messo vicino. Ho capito. Sono un genio. Forse. E' divertente vederti ballare lì così. Aspetta un attimo. Vabbè ma senti ma facciamo una cosa. Ho un'idea un'idea un'idea. No è ve... Oh Fra sono un genio. Usiamo uno splendissimo... Guarda eh. Allora. Aspetta. Aspetta. Io che faccio ma? A me non funziona così. Ma io da buona gallina con le mie uomo. Tu sei una gallina con i capelli e faccia da Gesù. Ssh. Dettaglio. No l'ho fatto in basso. Aiuto sono sciopido. Ok. Giusto. Giusto. Quindi molto semplicemente basta fare questa cosa. Guarda eh. Che c'è nio. Vediamo vediamo vediamo. Signore aspetta. 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 Stai facendo tutte cose? Io ho appena preso una cosa dalla vita. Vediamo se mi ricordo come si fa. Allora. Allora. Dovrei mettere qua. No. Devo prendere il pistone appiccicoso. Sono stupido. Vai. Stai ce l'abbiamo fatta. Ce l'ho. Diciamo. Fatta. Vai. Sono un cacchio di genio. Il dilemma è come fare. Ah vabbè basta che. Allora. Tu quindi funziona che. Aspetta eh. Dovrebbe funzionare. Tu sali il suo minecart. Lo metti qua. Ci sali. E non puoi fare un cacchio. Aspetta. Ah vabbè. Semplicissimo. Dicevo. E ti bughi malissimo. Allora basterebbe forse fare. Questa cosa qua. Devo semplicemente andare maturre. Cod'è sta cosa qua. Devo finire che. Sono in grado. Sono in grado. No. Non so più. Arrestate. Ok. Questo. Questo. Mi guardo se si va così. vai forse ho capito dilemmi tutte cose sono un cacchio un cavolfiore di genio ti piacciono i cavolfiori? si mangialo guarda stai fermo però nella vita vieni un secondo qua guarda eh ora lo riattivi però tu essere qua devo essere lì? no spostati devi spostare da qua devi metterti qua qua ti devi mettere ok a essere qua fare così lo so sei fiero di me si si bravo hai capito hai capito aspetta adesso basta che mi porto dietro un minecart una torcia di pietra rossa mi dai qualcosa da fare? eh prova a inventarti una trazione piccolina da fare ok la faccio qui così 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 io ma te esce? uno due tre quattro uno due tre quattro pish uno due tre quattro dimmi shh la faccio qua ok comunque vediamo se funge allora vediamo un po' cosa fa vabbè raga si ha fungito prima e ho sbagliato cosa? allora tu fai così sali apri questo e vai però in verità no però in verità non c'hai voglia di andare ovvero hai messo una cosa dove non dovevi metterla cosa? eh vabbè niente fra su sto mondo sto capendo che le cose non vanno molto c'è qualcosa che non va c'è le queste cose qua non vanno vuoi dirmi che servono queste? c'è è una cosa è un'agonia ecco ok 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 niente queste funzionano non si sa perché vabbè va bene uno due tre meglio non entrano per favore sto finendo sto ok ti porto io tutte cose sto finendo il video tanto aspetta esce aspetta esce tu intrattieni intrattieni eccomi c'è sopra la volta per il profondo certo eh si si eccomi ciao cosa? perché ciao? perché buon tornato buon tornato? no buon tornato tipo esatto allora teoricamente dovrebbe funzionare Vai, Stefano sono geniush No, no, ho acceso questa torcia Ecco per qua l'ho entrata malissimo Vai Si vola Ho sbagliato tutte le cose Uno vero Un'immengiono di mattina Però non lo dico più perché sennò proporreimi 3000 sponsor Va esteticamente fa cagare però almeno è funge E' funge Ok Funge e funge Sì sì C'è tutto automatico Vai, mi piace non c'è il resto la tua parte non c'è il resto carino, carino che bello sono tornato indietro dato che c'è gente claustrofobica io le faccio questa cosa qua poi però vorrei ecco qua che culo che ho avuto sono riuscito a fare la cosa che volevo a un modo migliore stai abbiamo avuto il culo più potente del mondo a trovare una una montagna così perfetta pensavo che mi stava entrando qualcuno in camera adesso posso aspettare io non vengo attraverso l'imposizione perché si baggano le cose nel mondo? mi mangio pasta e banane dai stai allora vieni un secondo bello stai vieni un secondo io lo sto divertendo così da mezz'ora allora prendi un minecart dopo me cioè dopo me prendi un minecart e basta ok adesso parto vai vai allora il primo episodio si può concludere qua direi che faremo il continuo del prossimo in un altro video noi vi salutiamo goodbyes